Ilari Blasi e Francesco Totti si sono nuovamente incontrati in tribunale per discutere della loro causa di separazione. Ilari ha espresso il desiderio di accelerare i tempi per definire il divorzio entro l'autunno. Tuttavia, sembra che ci siano ancora dettagli da risolvere, con il figlio Christian, che potrebbe avere un ruolo decisivo. Durante l'ultimo incontro, i due ex coniugi hanno sorpreso tutti, con un gesto inaspettato. Si sono stretti la mano davanti a testimoni. Secondo la Repubblica, l'incontro in tribunale è stato sereno e tranquillo, contrariamente alle aspettative. Questo gesto di pace potrebbe portare a una risoluzione extra giudiziale equilibrata. Tuttavia, resta da vedere se questa armonia si tradurrà in un accordo o se finiranno in tribunale. La causa di divorzio deve ancora definire dettagli importanti, come la casa coniugale, l'affidamento dei figli e l'assegno di mantenimento. Ilari ha chiesto un aumento dell'assegno, sostenendo di non avere più gli stessi redditi di prima. Totti, al contrario, ritiene che Ilari guadagni ancora bene grazie ai suoi progetti lavorativi. Il figlio Christian potrebbe essere decisivo per la questione dell'assegno di mantenimento, poiché non vive più con i genitori. Sarà ascoltato come testimone per aiutare a prendere una decisione. Resta da vedere se la famiglia riuscirà a trovare un accordo o se continuerà a lavorare.